Il Campobasso ottiene il 29esimo punto della gestione Favo, disputando un primo tempo eccezionale cui segue una ripresa in sofferenza per la risalita degli avversari che tuttavia non riescono a strappare punti. Decidono Gabrielloni ed Alessandro, il pubblico raccoglie a piene mani l'invito della società e del neo dirigente Aliberti ad affollare Selva Piana. Ci sono più di 2000 spettatori per un colpo d'occhio davvero straordinario offerto dalla Curva Nord-Scorrano. Un pugno di tifosi anche da Avezzano. Il parcheggio di Selva Piana ultimato ma interdetto crea grandissimo caos nelle vie intorno allo stadio a pochi minuti dall'inizio dell'incontro. Dopo appena un minuto Rinaldi pesca la girata di Gabrielloni, para la meno peggio da Vino, Campobasso immediatamente pericoloso. All'ottavo proteste di Selva Piana quando Alessandro alza il pallone forse deviato con un braccio da venditti ma il signor Piacenza di Bari fa giocare. L'inizio è tutto del Campobasso al decimo punizione di Todino respinge da Vino sulla propria sinistra. Si succedono le occasioni da rete clamorosa quella del tredicesimo con Bontà che pennella benissimo stacca Todino che manda fuori da due passi. L'Avezzano dà segnali di vita solo al diciassettesimo. Da destra crossa Moro libera la difesa tiro non troppo pulito di Puglia bloccato da Grillo. Al diciannovesimo al centro dell'area incornata di De Santis e palla a lato con recriminazioni di parte ospite. Il frutto del costrutto rosso-blu giunge al ventesimo quando da un gran tiro scoccato da Rinaldi la zampata killer la mette Gabrielloni autore del vantaggio di casa. Selva Piana esplode di gioia dopo aver dato anche un'occhiata all'assistente che convalida la marcatura. I lupi non sono affatto paghi. Già al ventitresimo Bontà mette a terra benissimo prima di un diagonale che per troppo poco non vale il raddoppio. Davvero flebile la risposta offensiva di un Avezzano in difficoltà. Al trentacinquesimo ecco la punizione potente ma centrale di Tabacco. Il campo basso potrebbe chiudere al quarantesimo Bene Todino a condurre l'azione che Bontà non riesce a finalizzare. Palla pervenuta ancora a Todino che prende la mira ma calcia alto da posizione favorevole. Prima frazione chiusa meritatamente in vantaggio dai rosso-blu spaventati al primo della ripresa da un buon incrocio di testa da parte di Moro su taglio di De Santis. La palla esce davvero di un soffio. Ora il campo basso è abbastanza svagato al terzo altra mega occasione abruzzese con De Santis che pesca Puglia. Ci vuole un mezzo miracolo di Grillo per tenere in piedi l'1-0 di casa. Un minuto ancora per l'occasione di Todino che crossa. Davino interviene ma non blocca per anticipare Alessandro. Ed è proprio l'argentino del campo basso al sesto a siglare il raddoppio locale di testa su preciso cross di Todino. È il 2-0 e la gara prende una piega ben determinata. Doppio cambio per mister Lucarelli. Entrano Bittai e Di Curzio al posto di Puglia e Tariuk. Il campo basso è incontenibile. Al dodicesimo cross di Rao Tabacco mette in angolo rischiando seriamente l'autogol. Al sedicesimo Alessandro si danna l'anima a destra prima di offrire un pallone. In mezzo non preda né di Gabrielloni né di Rinaldi. Al diciassettesimo come un lampo. Il gol ospite azione condotta da Moro affrontato al limite da Di Pasquale. Il gioco prosegue in area con la girata vincente da parte di Di Curzio. L'Avezzano si rimette in carreggiata e a più di 20 minuti dalla fine Favo così corre a ripari. Dal ventiduesimo doppio cambio. In campo Gattari è grazioso il luogo di Di Pasquale e Lanzilotta. I rossoblu che hanno corso tanto iniziano ad accusare la stanchezza. Lo stesso Bontà al trentaseiesimo deve lasciare il campo a causa dei crampi. Entra Lucchesi al suo posto. Il finale regala ancora delle emozioni come il tiro al volo di Moro a tempo ormai scaduto. Il direttore di gara comanda quattro minuti di recupero al terzo dei quali i rossoblu conducono un contropiede. Contodino che smista per l'inserimento di Grazioso che trafigge da Vino per la terza volta. È il primo gol stagionale per il centrocampista di casa che chiude così l'incontro. In una atmosfera di festa la squadra saluta il pubblico. Domenica derby ad Agnone che stando ai risultati lusinghieri delle due squadre si preannuncia molto valido sotto il profilo agonistico. Grazie a tutti.